Uomini e donne trono finito, ma fuori Mario sta cercando di fare capire Aida Platano quando si è innamorato. L'ultima dedica. Il dating show di Uomini e donne tra breve terminerà la stagione con la consueta lunga pausa estiva e il ritorno a settembre. Nelle ultime puntate che vedremo, ci sarà la scelta di Daniele Paudice e il definitivo addio di Aida Platano che concluderà il suo trono senza scegliere. Uomini e donne, Mario Cusitore pubblica un video tratto dal film Le Pagine della Nostra Vita. L'ultima segnalazione riferita a Mario Cusitore era vera, per stessa ammissione dell'ex corteggiatore campano. Lo speaker radiofonico ha ammesso di essere stato insieme all'ex corteggiatrice di vicinanza, Melissa, nel famoso B.E.B. in cui è stato immortalato, anche se ha continuato a giurare che tra loro non è successo assolutamente nulla. Aida non ha creduto più a Mario e ha quindi deciso di eliminarlo definitivamente. Il trono è naufragato anche per la decisione di Pierpaolo Siano di lasciare il programma, troppo deluso dai comportamenti della Platano. Nel corso delle prossime puntate, Ida e Mario torneranno ospiti in studio per raccontare cosa è successo nei giorni successivi all'eliminazione di Cusitore. Quest'ultimo, infatti, ha riferito di essere andato a casa di Ida per poter chiarire ma che l'ex tronista ha deciso di non vederlo e non di ritornare sui suoi passi anche se Mario ha ribadito di provare un sentimento importante dei confronti dell'ex dama del trono over. In questi ultimi giorni, gli appassionati del dating show stanno facendo molta attenzione alle mosse social dei due ex volti del programma e oggi, l'ex corteggiatore, ha pubblicato un significativo video di un estratto di un film molto famoso, Le Pagine della Nostra Vita, quando i due protagonisti, poco dopo essersi finalmente ritrovati, parlano dei loro litigi. Noa interpretato da Ryan Gosling dice a Lee e interpretata da Rachel MC Adams. Non vuoi restare con me? Domanda lui restare con te? E perché? Guarda, stiamo già litigando, risponde a Lee. Poco dopo, inizia un discorso del ragazzo ancora follemente innamorato di lei. Noi, noi siamo così. Noi litighiamo. Tu dici a me che sono un arrogante figlio di puttana e io ti dico quando sei una rompicoglioni. E lo sei, il 99% del tempo. E non ho paura di offenderti, tanto ti bastano due secondi di recupero per passare alla rottura di coglio asterisco asterisco successiva. Allora non sarà facile, anzi sarà molto difficile. E dovremo lavorarci ogni giorno, ma io voglio farlo perché io voglio te. Io voglio tutto di te, per sempre. Io e te, ogni giorno della nostra vita. Vuoi fare una cosa per me? Per favore, prova a immaginare la tua vita fra 30 anni, fra 40 anni. Come sarà? Se la vedi con lui, vai. Vai. Te ne sei andata una volta, sopravvivere anche alla seconda, se è quello che realmente vuoi. Ma non scegliere la strada più facile. Sembra che Mario stia facendo davvero di tutto per cercare di riconquistare la fiducia di Ida. Noi, noi siamo così. Noi litighiamo. Tu dici a me che sono un arrogante figlio di puttana e io ti dico quando sei una rompicoglioni. E lo sei, il 99% del tempo. E non ho paura di offenderti, tanto ti bastano due secondi di recupero per passare alla rottura di coglio asterisco asterisco successiva. Allora non sarà facile, anzi sarà molto difficile. E dovremo lavorarci ogni giorno, ma io voglio farlo perché io voglio te. Io voglio tutto di te, per sempre. Io e te, ogni giorno della nostra vita. Vuoi fare una cosa per me? Per favore, prova a immaginare la tua vita fra 30 anni, fra 40 anni. Come sarà? Se la vedi con lui, vai. Vai. Te ne sei andata una volta, sopravvivere anche alla seconda, se è quello che realmente vuoi. Ma non scegliere la strada più facile. Grazie. 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 Grazie.